Sono 69 i nuovi casi positivi al covid-19 segnalati nelle ultime 24 ore sul territorio regionale, a fronte dei 747 tamponi analizzati. I numeri in calo, come ogni lunedì, sia di test effettuati che di casi riscontrati, evidenziano però come il dato maggiore dei nuovi positivi, ben 47, sia stato registrato nella provincia pesarese. Le persone attualmente ricoverate a causa del covid nelle Marche sono 45. Nell'ospedale pesarese, il cui dato complessivo di 12 ricoveri totali rimane stabile, 4 sono i pazienti che si trovano in terapia intensiva, 1 nell'area semintensiva e 7 nei reparti ordinari. Il bollettino quotidiano emesso dal servizio sanità della regione non ha notificato decessi legati al covid. Per quanto riguarda l'attività di report e controllo sanitario svolto a Pesaro con l'organizzazione dell'amministrazione comunale, era composta da più di 300 persone l'ultima tornata dello screening partito la scorsa settimana nei giorni antecedenti a Candele sotto le stelle e terminato nel weekend per permettere ai cittadini interessati di sottoporsi ad un test antigenico rapido prima del ferragosto. 5 i tamponi risultati positivi in attesa di conferma del molecolare nelle mattinate di venerdì e sabato. Circa 600 invece i test svolti, che sommati a quelli effettuati prima della notte delle Candele, portano a 1700 il numero totale di controlli effettuati nello screening di fine estate, in cui sono stati impegnati medici e infermieri con 5 postazioni attive e i volontari della protezione civile AIL e ONLUS Gulliver. Sul fronte vaccini invece è ricominciata dopo lo stop di ferragosto l'attività degli hub di Pesaro, Fano e Urbino, che fino alla fine del mese si alterneranno nelle aperture mattutine e pomeridiane per effettuare le somministrazioni di richiami e prime dosi. A partire da oggi, lunedì 16 agosto, i cittadini appartenenti alla fascia d'età che va dai 12 ai 18 anni potranno ricevere la vaccinazione accedendo direttamente e senza bisogno di prenotazione. Un'iniziativa adottata per dare ulteriore impulso alla vaccinazione dei più giovani, in previsione della riapertura delle scuole e dell'avvio della prossima stagione sportiva. Gli assessori regionali a Sanità e Sport, Filippo Saltamartini e Giorgia Latini hanno inoltre annunciato, sempre da questa mattina, l'ingresso libero ai punti vaccinali e senza bisogno di prenotazione anche per i tesserati delle federazioni sportive. Prosegue anche l'attività del camper vaccinale dell'area Vasta 1, che dopo la tappa di mercoledì a Frontino si sposterà nel Pesarese. Lunedì prossimo, 23 agosto, nella mattinata, l'appuntamento sarà a Tavullia, all'esterno della scuola Pascoli, mentre venerdì 27 agosto, sempre durante la mattinata, il camper sarà attivo nel centro storico di Monbaroccio. L'ultimo giorno di agosto, martedì 31, sarà poi la volta di Gabicce Mare, con la sosta prevista in piazza Municipio.